Buongiorno. Sì, sono un po' stanca, ho fatto una corsetta qua in North Carolina, ma volevo prendere questo momento per condividere con... fu un momento meraviglioso. Un momento di gratitudine. Senti gli uccellini, forse un po' di gocce di pioggia. Allora, come stai oggi? Come hai abbracciato questa nuova giornata? Che desideri? Che senti? Prendi un momento per annusare la vita, per abbracciare la vita. So che non è sempre facile, perché la vita non è facile, ma anche la vita non è difficile. La vita è la vita. Questo è il pensiero di oggi. La vita è la vita. E tu, io, noi diamo il colore alla vita. Noi facciamo la vita difficile o le circostanze. Interessante, no? Questo pensiero vuole lasciare. Noi coloriamo la nostra vita. E noi, non solo noi, noi, ma noi con tutti gli altri esseri che vivono qua. Anch'io. Quindi insieme coloriamo la vita e decide oggi di dare colore più belle, più bellissimi, bellissimi momenti alla tua vita. Iniziando con la gratitudine. Sono grata per l'aereo che respiro. Sono grata per questo il tetto sopra la mia testa. Sono grata per tutte le esperienze della vita. Sono grata per gambe, ossa, piedi, mani, cuore. Dà colore alla tua vita, come vuoi tu. Prendi questo momento per ringraziare la tua vita. Anche che senti che non è facile, ma sono le esperienze che ti aiutano per crescere. E forse a questo momento non capisci il senso delle cose che stai passando. Ma ti assicuro che un giorno capirai? Tutto ha un senso. Tutto ha un senso. Tutto ha valore. Tutto è un'esperienza. Quindi abbraccia oggi. Abbraccia la vita. Abbraccia a te. Io ti abbraccio così. Alla prossima.